Quello che volevamo realizzare, io con gli altri progettisti, era sicuramente un'area nuova, un'area a misura di bambino sicuramente, perché l'idea principale era quella del parco giochi. Poi è normale che abbiamo spaziato e ci siamo allargati creando un'area più aperta, una sorta di piazza, ma il fulcro è il parco giochi dei bambini. Il progetto rappresenta con queste onde come una mareggiata, visto che il fronte mare, la quinta mare, appunto ha questo andamento sinusoidale, che si materializza sia con la quinta, sia sul pavimento, con questa tramatura, con queste mattonelle di diverso colore, e poi via via andandosi a rettificare sul fronte strada con queste panchine che hanno questo andamento, a differenza dell'assetto precedente, che hanno appunto adesso la capacità di permettere a chi si siede di poter comunicare fra loro. Siamo stati circa sei mesi per completarlo, c'è stata una piccola pausa per sistemare un po' con una piccola variante rispetto ai lavori che erano previsti, però diciamo che tutto in linea di massimo è proceduto molto bene, non ci sono stati grossi problemi, ma ovviamente come in tutti i lavori sempre c'è qualcosa che bisogna sistemare in corso d'opera, sempre si trova qualche piccolo problemino quando si scava, qualcosina si trova, però in linea di massimo è andato tutto bene.